Salve! Buongiorno e benvenuti! Io sono Violetta e questo è Te lo dico io, la mia mini rubrica settimanale in collaborazione con il sito di cinema Screen Week. Oggi invece di parlare dei film in uscita, stiamo sul pezzo con le serie tv in uscita. Per la precisione, quelle che sembrano essere le quattro più attese della prima metà del 2015. Sono pronta a svelarmi il poker d'asse di serie tv che ho nella mano. Cominciamo da febbraio, più precisamente dall'8 febbraio, con Better Call Saul, ovvero meglio chiamare Saul, lo spin-off dell'amatissimo Breaking Bad, creato da Peter Gould e Vince Gilligan e incentrato sul personaggio di Saul Goodman, il furbo avvocato interpretato da Bob Odenkirk, quando ancora si faceva chiamare con il suo vero nome, ovvero Jimmy McGill. In questa serie facciamo infatti un tuffo nel passato e ci ritroviamo catapultati sei anni prima dell'ambientazione di Breaking Bad, seguendo il percorso di Jimmy per diventare Saul, mentre cerca di sbarcare in lunario come avvocato da due soldi, spesso lavorando insieme o contro Mike, interpretato da Jonathan Banks. Signori, dopo cinque stagioni di Breaking Bad, a quanto pare gli autori intendono continuare a spennare questa gallina dalle uova d'oro che è stato il loro show, ma dopo la valanga di premi ricevuti dal suo predecessore, ci riusciranno? Non sarà un'impresa facile guagliarlo, ma staremo a vedere. E poi uno degli episodi sarà diretto da Bryan Cranston in persona, ovvero l'incredibile Walter White, protagonista indiscusso di Breaking Bad. Ma se per voi gli zombie restano sempre un evergreen, i vostri horror preferiti sono popolati dalle creaturacce morte non morte, e la notte di Halloween la passate girovagando per la città al grido di Cervalli, allora una serie che fa per voi? Preparatevi perché il 17 marzo arriva iZombie, una serie tv sulla dipendenza dalla tecnologia Apple che ci ha reso zombie in tutto il mondo. No, sto scherzando. La verità è che Rob Thomas, il creatore della mitica Veronica Mars, sta per tornare con questa serie tv nuova di zecca sul mondo dei morti viventi. iZombie è l'adattamento dell'omonimo fumetto di Chris Robertson e Michael Albright, pubblicato da DC Vertigo. Lo show avrà come protagonista Olivia, Liv Moore, interpretata da Rose McIver, una studentessa di medicina che ha bisogno di nutrirsi di cervelli per conservare la sua umanità. E così comincia a lavorare presso l'ufficio del coroner, dove può trovare un bel po' di roba fresca. Ma c'è un ma. Per ogni cervello che ingorgita, Liv eredita i ricordi della persona a cui apparteneva. E questo le permette anche di aiutare la polizia a risolvere i casi. Un gioco da ragazzi, pronti alla buffata? E se c'è bisogno di un supereroe nella vostra vita, preparatevi all'appuntamento del 10 aprile con Daredevil. Dopo Agents of Chill e Agent Carter, ecco arrivare questo gioiellino di miniserie targata Marvel Studios, in collaborazione con Netflix. Lo so che i vostri ricordi di Daredevil sono legati a Ben Affleck e Jennifer Garner, al tenero incontro sul set che li ha fatti convolare a nozze, eccetera, eccetera. Ma qui diciamo addio a Ben e ciao a Charlie Cox, per il ruolo del cieco Matt Marduk. Che poi, tanto cieco non è, perché ha sviluppato un udito finissimo, che gli mostra il mondo che lo circonda, sostituendo la vista perduta e rendendolo il celebre vendicatore Daredevil. Ma l'incontro Marvel-Netflix non ci porta solo Daredevil, ma prossimamente darà alla luce anche tre miniserie, ovvero Jessica Jones, Pugno d'Acciaio e Luke Cage, che infine uniranno le forze tutti insieme e approderanno nella serie The Defenders, i difenditori, se poter dire. Ultima ma non ultima, approda il 14 maggio, Wayward Pines, firmata niente di meno che dal regista autore dei più celebri thriller degli ultimi anni, M. Night Shyamalan. Il sesto senso, Sainz, The Village. Non so se mi state a capire. Wayward Pines debutta su Fox in contemporanea con gli States e in altre 125 nazioni. Il più grande lancio day and date del mondo. Questi fanno proprio sul serio. E con dieci episodi ci raccontano le vicende di Ethan Burke, interpretato da Matt Dillon, un agente dei servizi segreti in missione a Wayward Pines, Idaho, per indagare sulla scomparsa di due federali. Ma non vi fate ingannare dall'atmosfera tranquilla e bucolica della cittadina? Perché proprio come lo storico Twin Peaks, nasconderà inquietanti misteri. Allora, qual è la serie TV che preferite? Quella che aspettate con più ansia? Passate su Episode 39 per votare gli episodi delle vostre serie preferite, commentare le trame e molto altro. Io sono Violetta e mi trovate come Violetta Rocks su tutti i social e su YouTube. Ai prossimi appuntamenti! Ciao!